Buongiorno, siamo a Croniale, frazione di Amatrice e siamo a casa del signor Marino che è un imprenditore dell'agricoltura, così mi è stato detto. Signor Marino, proprio per far capire alle persone, alla gente che non ha vissuto il terremoto, questo grande sisma, chi non l'ha vissuto. Per chi non l'ha vissuto vogliamo far capire, in realtà dal 24 agosto ad oggi lei ha trovato dei miglioramenti, degli aiuti, ci racconti? Allora, miglioramenti no, perché è impossibile avere, anzi peggioramenti sì, ma miglioramenti in queste circostanze è impossibile. Gli aiuti, ringraziando Dio, li abbiamo avuti dai volontari, di agente, ecco come oggi avete visto quanta gente c'è intorno casa, ecco questi sono aiuti che abbiamo ricevuto noi, perché dall'istituzione proprio assolutamente quasi nessuno, perché noi siamo un'azienda tra le più grandicelle della zona e per secondo loro non abbiamo bisogno di niente. Di fronte alle varie istituzioni, quello che mi dà più fastidio è che sono quelle che dovrebbero sapere di più, perché loro sanno tutto, l'entità dell'azienda, i bisogni, le roba varie. Il bisogno ce l'ha più quello che ha parecchie bestie, che ha veramente bisogno perché non gli arrivano, no? Noi siamo stati tra i primi che dopo il terremoto non arrivavano aiuti perché non facevano passare l'Italia né niente e se ne sono fregati un po' tutti insomma. Ma lei che danni ha avuto da questo sisma? Eh vabbè, noi ci abbiamo tutto crollato, non so se avete visto, ci abbiamo tutto crollato, di cui pure una stalla, una no, ma una è crollata insomma, dove c'avevamo le bestie, dopo la regione ci ha montato un tunnel e ringraziando Dio dopo tanto tempo ci siamo riusciti a metterle dentro altre bestie e le abbiamo sistemate insomma, però i disagi rimangono sempre perché purtroppo. Beh allora lei mi vuol dire che comunque un ringraziamento particolare va fatto ai volontari? Ai volontari, assolutamente guarda, assolutamente, io quello che ho avuto dai volontari è stata una cosa bellissima proprio, bellissima, bellissima, bellissima. Mi fa piacere sentire dire da lei questo perché i volontari. E ancora oggi a distanza abbiamo sempre esclusivamente aiuti dai volontari. Ecco questo mi fa molto piacere perché essendo anch'io una volontaria, i volontari solitamente si muovono disinteressatamente e con grande umiltà e senza tante smancerie insomma. Signor Marino io la ringrazio per avermi concesso questa intervista, la ringrazio per avermi ospitato in casa sua e le facciamo tantissime ma tantissime a voi. È l'indole nostre comunque a fare ospitalità, questo è, ce l'abbiamo tutte e tre noi, grazie a Dio nel sangue. Grazie signor Marino, buona giornata. Grazie a voi. Allora siamo a Norcia, siamo dalla signora Giulia dove abbiamo consegnato un divano letto a due posti per la sua mamma che ha 93 anni, la signora Gina che in questo momento non è qui perché comunque è a Roma perché la sua casa è completamente distrutta. Questo divano letto diciamo è stato portato ma da noi come associazione ma è stato donato dal Lions Club Parabiago Host che noi ovviamente ringraziamo per averci dato questa possibilità di portarvelo. Signora Giulia, la sua mamma cosa vuole fare? Vuole ritornare dove? Vuole ritornare da Roma, vuole ritornare nelle sue zone e quindi ringrazio sentitamente tutti quelli che ci stanno aiutando e non so che dire, sono emozionato. E certo lo capiamo benissimo, ovviamente la sua mamma è di Norcia e ovviamente non vuole sradicarsi da quello che sono le sue radici. No, assolutamente no, vuole tornare a tutti i costi. E dunque vuole tornare a tutti i costi, a me sembra giusto di avere anche questo ricongiuncimento familiare. Signora Giulia, noi la ringraziamo, le portiamo i saluti del Lions Club Parabiago Host e della sua presidente, l'avvocato Germana Vignati e di tutti i loro soci. La ringraziamo anche per l'ospeditarità e per le torte buonissime che lei ci ha fatto. Io ringrazio voi e tutti quanti quelli che ci stanno aiutando. Grazie, grazie. Siamo a Norcia con Simonetta che ormai è diventata una cara amica. Esatto, una cara amica. Cara Simonetta oggi noi siamo qui grazie alla Ceriani di Legnano che è una concessionaria, autoconcessionaria perché praticamente ci ha noleggiato gratuitamente il mezzo per poter trasportare tante altre cose. Dunque vogliamo veramente ringraziarlo e a te abbiamo portato del PET. Vuoi dire qualcosa signor Ceriani? Signor Ceriani diciamo che tanto come dico da tempo l'aiuto arriva anche tanto da lontano e per arrivare da lontano sempre serve anche chi ci dà modo di trasportare. Quindi comunque grazie. Per tutto il resto tutto è sempre ben gradito e addirittura delle buste, posso dirlo questa cosa delle buste che a me sono servite tantissimo che ci ha portato Valeria all'epoca e sembrava dicendo queste te le lascio o non te le lascio invece posso dire che sono state utilissime sia per la forma sia per la consistenza perché in questo momento abbiamo tutto che viaggia dalle case alle casette alle roulotte. Quindi sempre tutto utile e ben accetto. Per quelle ovviamente per le borse dobbiamo ringraziare la signora Maria Genovese che proprio lei me le aveva date e io te le ho consegnate e io rinnovo ancora i ringraziamenti il signor Ceriani per averci permesso di arrivare qui a Norcia. Grazie a te Simonetta. Grazie a voi. Allora siamo in casa di Franca Norcia dove con i suoi sforzi suoi e della sua famiglia hanno acquistato questa casetta e ovviamente dovevano completare praticamente l'arredamento per la casa, le mancava un armadio e grazie agli arredamenti Tozzo di Canegrate siamo stati in grado di consegnare questa mattina a Franca il completamento della sua casetta che sembra una bomboniera. È bellissima. Franca un saluto alla signora Tozzo. Grazie mille sono commossa un saluto alla signora. Grazie. Grazie a te e anche per l'ospitalità. Grazie.